Emanuela Trombetta, la raccolta firme è qui al Corso Nazionale a Termoli, come sta andando? Sta andando bene, abbiamo dovuto fare tutto il giro del Molise, stamattina siamo stati a Dagnone, abbiamo fatto i servizi a meno compasso stasera a Termoli, approfittando anche il senatore Polone. Sono stati raggiunti gli obiettivi che vi eravate prefissati o speravate in qualcosa di più? No, gli obiettivi sono stati raggiunti, abbiamo avuto un piccolo problema, l'abbiamo risolto e stiamo cercando di perfezionare la perfezione. E senti, come dicevo anche ai tuoi colleghi, quali sono le speranze per il futuro? Cosa ci dobbiamo aspettare dopo questa raccolta firme? Le speranze per il futuro sono che le forze di senso possano entrare in Parlamento per bloccare la tirannia e l'egemonia di questi partiti che oramai sono decenni che ci governano. Quindi la nostra speranza è che tutte le forze del dissenso possano partecipare attivamente alla democrazia. e la raccolta firme, la popolazione ha risposto bene a questa cosa, quindi ci dà speranza che ci sia una partecipazione attivata della popolazione. Grazie di cuore.